Giudici, fate la nostra prima linea in azione, forza! Questa 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 linea, forza! Questa linea in azione! Questa linea in azione, forza! 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 forza con l'eliminazione giudici fermi così quante coppe sono rimaste vicino a me vediamo se i giudici si sono svegliati o no venite qua accanto a me vediamo quante coppie sono sono allora 7 allora dj li mettiamo un altro pezzettino continuate a ballare un applauso a chi è rimasto in pista per essere imparziale farò io la scelta delle coppie da eliminare quindi eliminerà solo le coppie allora vi farò ballare che elimino io almeno potete prenderla con me e la lente è scopo e la luna 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 se e grande